La Regione Calabria ha raccolto la sfida lanciata dal Green New Deal. Intendiamo rivestire un ruolo chiave nella promozione del risparmio energetico, della produzione e dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, assumendo l'impegno di condurre il territorio verso uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale, lo afferma l'assessore regionale allo sviluppo economico ed attrattori culturali, Rosario Varì, sottolineando come uno dei punti vocali dell'azione che ha sottolineato la Regione, promuoverà attraverso strumenti e politiche mirate e l'accompagnamento dei comuni nella costituzione di comunità energetiche rinnovabili con l'obiettivo di diffondere e favorire la produzione e il consumo locale di energia rinnovabile. Il 24 maggio alle 10.30 a Catanzaro, nella sede della Cittadella, si terrà un evento sul tema delle CER, delle energie rinnovabili, che vedrà la partecipazione di GSE, il gestore dei servizi energetici, e di RSE, ricerca sul sistema energetico. Durante l'incontro verranno illustrati i servizi e le opportunità che la Regione intende mettere a disposizione dei comuni calabresi al fine di attuare a livello locale le strategie europee e nazionali. Il coinvolgimento del GSE e di RSE è stato fortemente voluto dall'amministrazione regionale al fine di fornire ai comuni un valido e qualificato affiancamento nel percorso virtuoso e intrapreso da parte di due soggetti tecnici che mettono gratuitamente a servizio del territorio la loro profonda esperienza sul settore di intervento. A partire dallo stesso 24 maggio sarà pubblicato sul portale web Calabria Energia dedicato alle politiche regionali in tema di energia che vedrà come primo tema di approfondimento quello delle comunità energetiche rinnovabili. Amministratori locali, tecnici, comunali, consulenti, energy manager potranno essere sempre aggiornati sull'evoluzione normativa e sulle opportunità di finanziamento consultare documenti utili ad inviare richieste di approfondimento a esperti del settore RSE e GSE supporteranno inoltre la Regione nella declinazione locale del Piano Nazionale integrando energie e clima avendo GSE partecipato alla stessura dello stesso ed avendo la Regione Calabria avviato un'attività di analisi del territorio.